Questo piatto è perfetto per i primi giorni freddi. Iniziamo. Sale, un uovo, pepe, mescoliamo bene, farina. Lavoriamo con le mani. Panna fresca, castelmagno, formaggio dal peggio profumatissimo, perfetto con la zucca. Prepariamo la salsa di rucola. Olietto, sale, ghiaccio. In questo modo il colore verde sarà super vivo e acceso. Il piatto pronto, velocissimo per preparare. Provate a rifarlo e fatevi sapere cosa ne pensate. Ciao!